Pazza idea, io che sorrido a lui, pensando di stare a piangere, ecco, ho sentito a volte questa cosa che io trovo tediosa, la detta, la dicono i buddhisti, la diceva Battiato, che vede come imprigionati nei cani degli umani, che avrebbero maggiori, più ampie aspirazioni, invece io ribaltato, vedo me stesso, cane imprigionato in un corpo umano, quanto più gli umani sono inferiori proprio ai cani, quindi siamo noi le creature dolenti, che aspiriamo a tornare splendidi come loro con questi meravigliosi finimenti emotivi, ecco, quindi, quando vedo un cane non sento pietà per lui, ma per me stesso, che ho nostalgia di tornare ad essere io stesso un cane, un cane.